Io gestisco il progetto dall'inizio fino alla consegna di tutto al cliente, quindi parlo con i clienti, gestisco i contatti e poi mi occupo della parte visiva che riguarda soprattutto la grafica, mi occupo della strategia di comunicazione e realizzo i siti web insieme al mio team. Quindi a questo punto Lucina è doveroso chiedere qual è stata la necessità, l'ispirazione che vi ha portato alla fondazione di questo studio? Diciamo che da un lato è stata una necessità, da un altro lato è stata quasi una cosa naturale perché comunque siamo una coppia anche nella vita.